Sconfitta Mara ma indolore. Al comunare il Corato perde 4-1 contro una coreacea Vigor Trani, ma centra ugualmente la matematica Salvez nel campionato di eccellenza. Partita quasi ma in discussione. I nero-verdi partono bene ma dopo la prima rete dello svantaggio calano vistosamente, con la prima frazione che termina sul punteggio di 3-0. Nella ripresa, complice il rigore sbagliato da Schirone e il quarto gol della Vigor, il Corato molla anche mentalmente il match, riuscendo a trovare nel recupero il gol della bandiera bianca. Mister Castelletti manda in campo l'ennesima formazione diversa. Al posto del capitano Asselti, fuori per squalifica, Schirone viene adattato a difensore centrale con Altares che finisce in panchina. Mister Scaringella, ex della partita, schiera un 4-4-3. In avanti ci sono Negro e Monopoli sulle fasce, mentre la punta centrale è Musa. Al primo minuto il Corato si rende subito pericoloso con Morra che si trova tu per tu con Petrarca. Preferisce passare la palla a Sguera, il quale viene anticipato dalla difesa. A metà della prima frazione, Della Penna riconquista palla in aria e anche lui, invece di calciare, sceglie il passaggio per Morra, che segna ma in posizione di fuorigioco. Verso la mezz'ora arriva il gol della Vigor. Negro in aria viene atterrato da Bonavitacola. Il direttore di gara fischia il penalty che viene trasformato dallo stesso giocatore. Palla da una parte e portiere dall'altra. Al trentottesimo minuto arriva il raddoppio degli ospiti. Bonavitacola colpisce male di testa il pallone, diretto a Cilli. Sulla sfera si avventa Negro che dribbla all'estremo difensore e insacca la doppietta personale che lo porta alla doppia cifra in questa stagione. La reazione del Corato sta tutta sul colpo di testa di Sguera, terminato poco alto. Nei minuti finali del primo tempo la Vigor Trani arrotonde il parziale. Monteduro passa la palla a Cilli che non rinvia. Monopoli gli ruba la palla e mentre sta per calciare viene bloccato dallo stesso portiere. Il numero 11 riesce a passare la sfera a Musa che a porta vuota centra il bersaglio. Il primo tempo finisce con un sonoro 3-0 per i biancoazzurri. La ripresa si apre con un calcio di rigore al quinto minuto per il Corato, per il fallo di mano sul traversone di Piarulli. Dal dischetto si presenta Schirone che calcia centrale. Petranca respinge il tiro. Sulla ribattuta arriva d'Arcante che da due passi sbaglia un gol già fatto. Al quarto d'ora alla Vigor cale il poker. Musa va via in velocità su Schirone, entra in area e spiazza Cilli con un destro che viene solo toccato dal numero uno Coratino. Al 29esimo minuto Sguera ci prova da calcio di punizione. Grande respinta di Petranca. Sul pallone poi arriva Altares che svirgola. Sul finire di gara arriva il gol della bandiera per il Corato ad opera di Ciriolo che riceve palla da Sguera e in acropazia segna la rete del definitivo 1-4. A fine partita la sconfitta lascia tracce notevoli. La dirigenza del Corato decide di dimettersi in blocco e sonerare il tecnico Vito Castelletti e mandare via tutti i giocatori.